È dal primo di agosto che tutti i giorni la comunità dei fedeli di Sciacca si prepara ad uno dei momenti cristiani più sentiti in città. Il 15 agosto viene celebrata la patrona di Sciacca, Maria Santissima del Soccorso, il cui simulacro viene portato in spalla dai marinai per le vie del centro. La Vergine Maria, sostegno e difesa della fede, illumina e guida il cammino della vita cristiana. È il tema scelto per la quindicina di quest'anno, ma ogni giorno si è approfondito un tema differente. Si è pregato durante le celebrazioni eucaristiche per la comunità parrocchiale, per gli artigiani, i professionisti, le associazioni di volontariato, i movimenti ecclesiali, le vocazioni spirituali, i malati, i diversamente abili, le confraternite, le famiglie e la vita. Domani, domenica 11 agosto, sarà la volta della tradizionale processione al porto alle 20 e 30. Ed ecco l'arciprete di Sciacca, Don Carmelo Lobue, che abbiamo parlato dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Soccorso. Io sono convinto che la Madonna non si festeggia solo il 15 agosto. Quello è il momento della processione di un culto esterno. Ma è bello, ho trovato qui a Sciacca questa bella iniziativa, che dal 1 agosto, nonostante il caldo, la AFA, fino al 15 agosto, non solo di mattina, ma anche nel pomeriggio, noi abbiamo una chiesa piena di fedeli. Certo, se fossimo tutti quelli di Sciacca, onorarla sarebbe una cosa bella. Però dico, a prescindere da quei momenti particolari comunitari di preghiera che noi facciamo la mattina alle 8 e mezzo, la messa con le lodi, la sera alle 19 con i vespri e la messa, l'adorazione, eccetera, a parte questi momenti, vediamo che durante la giornata ci sono persone che vengono a pregare anche in silenzio. Poi quest'anno abbiamo avuto anche la grazia di un missionario dei padri Cappuccini, che dal 1 agosto fino al 15 agosto compresso sarà con noi. Quindi è la mattina che confessa fino alle 11 e se ci sono altre persone continua a confessare. Nel pomeriggio pure, oltre che la predicazione, la messa. Quindi noi diamo la possibilità a chi vuole di accostarsi alla grazia di Dio. Quindi penso che la Madonna voglia essere onorata così. Lei dice sempre fate quello che Lui vi dirà. Quindi dobbiamo ascoltare il Signore. Infatti quando veniamo in chiesa ascoltiamo il Signore. Quindi la Madonna non ci attira mai a sé. La Madonna è via a Gesù. Cioè ci avvia, ci indica la strada che è Gesù e ci dice che dobbiamo ascoltare il Signore. Però lei ci aiuta a metterlo in pratica. Infatti è il sostegno della nostra fede e anche una guida nel cammino spirituale. Questa è la tematica che stiamo affrontando in queste messe. Grazie. 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 Grazie.